Uno dei paradossi del FOIA è che a chiedere una risposta al cittadino qualificata, unificata e digitalizzata sono stati organi giurisdizionali come il Consiglio di Stato e l'ANAC. Lei che ha fatto del digitale un punto fermo della sua azione, quanto pensa che possa influire sull'esito della trasparenza? Guardi, io penso questo. Questo è un ministero che si chiama pubblica amministrazione alla delega alla digitalizzazione. Io credo che tra poco tempo la digitalizzazione sarà talmente importante che sarà più importante quasi la pubblica amministrazione, nel senso che si trasformerà proprio, la pubblica amministrazione sarà solo digitalizzata. Probabilmente ci sarà un ministero, un domani della digitalizzazione, di tutto, quindi della pubblica amministrazione. Io devo dire con chiarezza, l'ho detto e lo ribadisco, in altri paesi si è già fatto tanto per la digitalizzazione, da noi no, sono stati fatti una serie di errori e tuttora io noto che c'è una certa frammentarietà, cioè ogni ministero ha un pezzo di digitalizzazione e questo significa che spesso il ministro delegato deve girare tra tutti i vari soggetti che dovrebbero rispondere al ministero di digitalizzazione per riuscire a coordinarli. Tra l'altro ho fatto recentemente proprio una circolare per individuare chi sono i responsabili, questo fa capire perché io dico che siamo all'anno zero della digitalizzazione, perché non si sa nemmeno chi sono i responsabili. Detto questo, se sono consapevole che sono all'anno zero, sono anche consapevole che il futuro sarà tutta digitalizzazione, ma digitalizzazione dobbiamo spiegare cosa significa. Non significa solo levare carta, significa anche immediatezza, significa anche possibilità di interoperabilità. Quindi il futuro significa un salto della pubblica amministrazione verso la velocità, verso l'immediatezza e verso anche la trasparenza, perché nel momento in cui si digitalizza è chiaro che il processo di trasparenza è una sorta di conseguenza immediata, le procedure si semplificano, si digitalizza e lì ci sarà la rivoluzione veramente effettiva della pubblica amministrazione. In Gran Bretagna è avvenuta in dieci anni. Noi stiamo per iniziare. Io vorrei non promettere che con me possa finire questa rivoluzione, però avviarla con forza.